Oggi incontriamo il professore pastore Eric Novke che è stato appena nominato professore di nuovo testamento alla facoltà valdese di teologia di Roma e dopo la designazione del corpo pastorale di ieri sera questa mattina giovedì 28 agosto 2014 l'assemblea sinodale ha approvato questa designazione e quindi il pastore Novke è nominato ufficialmente professore di nuovo testamento già pastore della chiesa di via 20 settembre a Roma quindi la città rimane la stessa 46 anni gli chiediamo innanzitutto di raccontarci brevemente la sua esperienza quindi come lei è arrivato fino qui è stato un percorso lungo diciamo che gli interessi accademici si sono come sono cominciati al tempo della facoltà per cui già lì ho studiato impostato la mia tesi con l'intenzione la speranza allora ancora molto una speranza di andare avanti con lo studio di cercare di puntare a un dottorato è andata bene ho cominciato a lavorare subito dopo la laurea nel 95 ho cominciato a lavorare nella chiesa valdese di prali e mentre ero lì sono riuscito a trovare la borsa di studio per andare a basilea dove ho cominciato il dottorato con il professore che hart stegemann lì ho proseguito lì sono rimasto un anno poi ho proseguito il lavoro mentre lavoravo a cinese lo bassa ma al centro culturale lombardini e alla chiesa metodista di novara e finalmente ci ho messo un po più del normale ma lavorando inevitabile ho preso il dottorato e poi cominciato a pian piano a scrivere pubblicare a partecipare a convegni nazionali e internazionali diciamo così di muovermi nel campo naturalmente nello spazio che avevo che rimaneva dal lavoro dalla famiglia quindi la sua attività di pastore in realtà si è sempre intrecciata con quella di ricercatore le ha scritto anche diversi libri articoli però adesso come ha ricordato nel suo discorso mettendosi i guanti da lavoro adesso si tratta di mettere i guanti e lavorare tra virgolette seriamente su questo aspetto di ricerca ma il passaggio dal lavoro prevalente dall'attività prevalente di pastore a quella di docente secondo lei quali cambiamenti principali porterà il principale cambiamento è che dovrò focalizzare sulla sull'aspetto accademico sulla ricerca sull'insegnamento su questi aspetti qua cosa che quando fai il pastore soprattutto nella comunità grande riesce difficile perché il tempo molto spezzato l'attenzione alla vita della comunità al sermone alla visita e queste cose qua quindi la ricerca rimane un po sullo sfondo nei momenti liberi negli spazi liberi quindi diventa come dire è un attasce a qualche cosa che fai accanto al tuo vero lavoro adesso si tratta di focalizzare però chiaramente questo porta anche maggiore responsabilità perché una cosa è dire va bene uno scrivo un articolo perché mi interessa questa cosa si poi ti stanno dietro quelli che lo devono pubblicare però ti dai tempi te li calcoli con calma eccetera adesso arriva la necessità di avere le lezioni pronte al momento giusto di focalizzare sulla ricerca essere quello diventa veramente un mestiere mentre prima era non dico un hobby però alla fine il mestiere era un altro certo un altro aspetto non dico problematico ma su cui magari ci si può interrogare il fatto che lei diventa professore nella facoltà in cui ha studiato questo ha degli aspetti positivi cioè le offre dei vantaggi o può avere anche degli aspetti diciamo con cui fare i conti ma io fondamentalmente direi dei vantaggi il discorso è questo cioè io vedo questo lavoro in questa nomina professore in continuità con lavoro pastorale cioè la nostra facoltà espressione della vita delle nostre chiese ne fa parte è una parte della nostra testimonianza quindi secondo me lavorare lì per me è veramente un continuare sotto altra forma questo stesso lavoro di testimonianza della nostra chiesa per cui io lo vedo come un grosso vantaggio certo se uno vuole fare pura ricerca questo tipo di lavoro beh chiaro una facoltà piccola come la nostra non te lo permette più di tanto perché non ci sono gli strumenti non ci sono i soldi non c'è c'è tutta una struttura diversa che naturalmente noi non possiamo assolutamente permetterci spero che ci saranno anche gli spazi in futuro soprattutto nella come dire in collaborazione con le altre facoltà di teologia che come quello che ne so è una bella collaborazione ci saranno anche dei momenti in futuro per diciamo così ricerca pura però a me piace questa idea di continuare questa idea di continuità nel lavoro certo lei quindi ha comunque mantenuto in questi anni i contatti con con la facoltà anche se sono passati circa vent'anni dalla sua dalla sua uscita diciamo come studente lei quali pensa che siano stati i cambiamenti più grandi della facoltà in questi vent'anni il cambiamento più grosso è stato secondo me l'introduzione delle cose a distanza perché ha fatto diventare la facoltà il luogo principale per la formazione dei nostri quadri dei nostri leader anche come dire leader locali e così via anche se poi la realtà corso a distanza si rivolge principalmente all'esterno mettendoci tra l'altro in contatto in rete con un sacco di altre persone di di altre confessioni adesso per esempio pastore anche l'ambito pentecostale che secondo me è una grande ricchezza questa è forse la grossa novità in questi ultimi vent'anni poi chiaro anche la nostra chiesa sta cambiando quando io sono entrato in facoltà erano ancora prevalenti gli studenti che venivano direttamente dal liceo adesso gli studenti che arrivano direttamente dal liceo sono la minoranza per cui c'è tutta una formazione differente perché davanti a te persone che hanno magari già studiato hanno magari già una laurea sono è un tipo diverso di studenti e quindi anche l'insegnamento deve adeguarsi deve prendere atto di questo cambiamento ecco una cosa che si può anche dire è che lei un professore relativamente giovane nel nel corpo decenti forse è uno dei più giovani e alzandosi l'età media degli studenti probabilmente cambia anche un po il il rapporto tra docente e studente rispetto rispetto a come poteva essere in passato beh indubbiamente sì a me ricordo che quando sono entrato in facoltà il professor corsani ci dava sempre del lei e quando poi venivamo consacrati ci veniva incontro diceva adesso che siamo colleghi possiamo darci del tu ecco questo diventa un po più difficile quando come dire la distanza di età di formazione eccetera si si accorcia per cui quando ti trovi con di concortano ma una persona di 30 anni eccetera si crea una situazione un po diversa per cui tenere una distanza forse più difficile però è anche una una sfida stimolante sicuramente il il rapporto tra tra studenti e docenti cambierà pur rimanendo comunque il il numero degli studenti abbastanza ridotto fondamentalmente non non troppo diverso però cambiano cambia la composizione dei gruppi e il decano uscente jan redali è appunto ricordato poco fa che è cambiata moltissimo la composizione diciamo del dell'uditorio sia come provenienza geografica sia come formazione sia come sensibilità di fede proprio questo è una sfida e porta dei cambiamenti anche nel nel vostro lavoro ovviamente sì anche perché quando io sono entrato in facoltà appunto lontano 1988 la facoltà era veramente come dire lavorava su due livelli la formazione degli studenti che sarebbero diventati professori e l'interfaccia della nostra chiesa accademico con le altre università stranieri soprattutto e con diciamo così con l'ambiente culturale italiano adesso veramente lavoriamo non dico a 360 gradi però ti rivolge a un pubblico molto 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 più ampio questo è assolutamente veramente un grosso cambiamento secondo me anche il tipo di tipologia di studenti uno studente di 19 20 anni sia le sue domande le sue cose però come dire viene più che altro per ricevere naturalmente nella dinamica giusta non è che per voglia sminuire però quando ti trovi davanti per esempio nel seminario e corse a distanza a professori universitari a persone magari con già una laurea e tutto con dei grossi interessi delle grosse domande che vengono messe sul tappeto beh il lavoro diventa più articolato anche più complesso direi secondo me perché ogni volta che ti rivolge la persona è una persona diversa davanti per cui tu devi saper fare l'esame alla casalinga che viene per prendersi l'attestato e che però ha studiato come una dannata magari con quattro figlie e tu non vorresti dare una medaglia d'oro per quello che ha fatto ma anche al professore di università che viene ti dice io so già tutto per cui facciamoci una chiacchieratina così perché tanto io so già tutto quindi per questi due estremi tu hai gente di tutti i tipi devi saperla affrontare devi saperti far coinvolgere coinvolgerla e saperti anche far interpellare e interpellarla è difficile farlo se hai sempre tipologia di persone davanti. Certo quindi forse in un certo senso sta cambiando anche un po' la vocazione della facoltà valdese nel suo discorso Red Allie ha esordito richiamando il ruolo principale della facoltà che è quello di formare pastori quindi guide di comunità ma sempre di più questo questa vocazione si sta ampliando infatti non a caso ha citato questa apertura verso l'esterno. Un'altra distinzione che talvolta si è si è fatto nel passato era luogo di formazione più di pastori come guide di comunità o di teologi e studiosi di teologia rimane questa questa distinzione? Questa distinzione non dovrebbe esistere perché un pastore deve essere un teologo ci sarà il teologo più brillante il teologo meno brillante ma deve essere un teologo cioè nella comunità il suo lavoro è principalmente quello perché se si perde l'aspetto della teologia allora si perde veramente secondo me il senso del pastorato nelle nostre chiese per cui la formazione deve essere accademica come mi disse una volta Paolo Ricca tanti anni fa mi disse questi tuoi cinque anni sono fatti per studiare studia tutto quello che puoi poi dopo non avrai più tempo per farlo come volresti per cui questi cinque anni sono anni in cui si studia chiaro non è studio fine a se stesso lo sappiamo benissimo ma non dovrebbe mai essere lo studio fine a se stesso questa è una regola generale lo si fa tenendo facendo conoscere agli studenti la realtà delle nostre chiese a Roma nella mia comunità spesso ho studenti che vengono a dare una mano per una cosa per l'altra per conoscere proprio la vita delle chiese però lì lo studio è accademico in vista del pastorato naturalmente ma è accademico poi lo studente imparerà a vivere questa mediare questa sua conoscenza teologica ma se va in comunità e non ha gli strumenti per fare teologia con la comunità è un guaio perché forse paradossalmente ma se io voglio spiegare in maniera semplice deve aver capito perfettamente il concetto perché se non l'ho capito o se non lo so non lo saprò mai spiegare per cui uno deve avere una buona formazione accademica perché se no non sarà mai in grado di esprimere in maniera semplice un concetto complesso importante se no ci sarebbe la banalizzazione ma quella assolutamente non la vogliamo certo quindi questo è molto importante sempre parlando di formazione quindi di programmi programmi per il futuro lei nel suo discorso ha detto adesso io non posso dirvi più di questo ovviamente quando si comincerà a lavorare poi man mano che si va avanti le cose si costruiscono però lei ha già fatto in questi anni delle delle attività con la facoltà anche di insegnamento anche organizzando seminari e quindi come pensa di di proseguire su su questa strada se ci sono delle delle idee che ci può anticipare ma chiaramente ognuno porta un po il suo contributo partendo da quella che la sua formazione la mia formazione è molto rivolta a una lettura storica del della bibbia c'è un interesse molto forte nella storia dell'ambiente della letteratura della teologia del mondo in cui è nato il nuovo testamento per cui chiaramente il mio principale interesse che come dire che porto adesso come contributo è quello quindi credo che sia inevitabile come dire che le mie lezioni i miei corsi saranno molto centrati su questo aspetto qua però appunto una volta che poi entrerò nel nel vivo della questione fra due anni beh allora lì devo vedere come inserire questa questo mio portato nella in quello che ha fatto il professore dagliere fino ad ora che ha naturalmente la sua impostazione e che è tarato sugli studenti una che io adesso non sono in grado di fare se non sì lo so fare sul corso a distanza per esempio perché ho lavorato principalmente sul corso a distanza ma le volte che ho sostituito il professore dalier mi sono accorto che effettivamente una cosa è venire a fare un corso una tantum un'altra cosa è seguire gli studenti adattare i corsi a quegli studenti e questa è la cosa che devo assolutamente ancora imparare questi due anni serviranno anche per questo penso sì perché ricordiamo che la nomina è avvenuta adesso però poi l'entrata in carica effettiva sarà poi fra fra due anni quindi non ci resta altro che ringraziarla moltissimo per per l'intervista e augurarle buon lavoro e buon proseguimento grazie grazie